Oggi abbiamo fatto una scelta diversamente dalle altre partite di essere un po' più difensivi, perché nelle altre partite rimanevamo spesso uno oltre uno dietro e ogni tanto con qualche scivolone, qualche incertezza ci facevano male. Oggi abbiamo scelto di aumentare un giocatore dietro e con le due coperture si sono visti i risultati, per cui bene così. 4-2-3-1 vi dà più garanzie rispetto a quei 5-2 sentite più potenti dietro? Oggi abbiamo anche un paio di assenti importanti per febbre, quindi in tempi avevamo questi, abbiamo lavorato tutta la settimana con vari moduli, perché loro comunque guidavano spesso anche loro i moduli in cui erano in campo e alla fine siamo trovati bene così e per fortuna è andata bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.